Spettacolo fino a tardasera a Camucia con gli atleti, le associazioni e il mondo del terzo settore, grazie a Sporta sotto le stelle. La manifestazione è organizzata dal Comune con il patrocinio di Regione, Provincia, Conicip e la collaborazione di Confesercenti e Confcommercio. Presenti varie realtà sportive con gare ed esibizioni, ma anche momenti culturali come la possibilità di visitare i giardini di Villa Sandrelli ed effettuare un tour alla Tanella di Pitagora. Successo anche per la rete commerciale di Camucia con negozi aperti fino a tardi e tavoli dei locali sotto le stelle. Ma non solo Sporta nella notte di Camucia, l'assessorato alle politiche sociali ha invitato le associazioni di volontariato a partecipare ed un'intera strada è stata dedicata ai loro stand. Nella serata sono poi avvenute anche le premiazioni ai migliori atleti locali e agli sportivi paralimpici. La manifestazione infine si è conclusa con l'esibizione del Bike Trial Show, uno spettacolo di freestyle e parkour.